ave gente bentornati su promertus apro questo video con delle scuse perché purtroppo il video precedente non è stato registrato per un problema di software mentre stavo avviando registrazione purtroppo a gioco già aperto il sistema mi ha detto di aggiornare il software di uso per registrare e questo purtroppo ha bloccato tutta la registrazione della partita non mi scusi se non la potete vedere ma non avete perso molto vi faccio un risultato breve come vedete è notte abbiamo finito di notte dormito rapidamente per consumare la notte fonda abbiamo comunque finito il lavoro sul campo 20 che era di raccogliere le patate e abbiamo attivato quella del campo 25 ho sistemato giusto la parte della stazione di sale la mostro proprio così ecco abbiamo raccolto dell'altro sale sistemato impilato e abbiamo dato un'occhiata rapida alla produzione del nostro prosciuttificio per il resto non ho modificato nulla non ho comprato nulla anzi abbiamo fittato anche il raccogliere patate come per la missione delle barbabietole detto questo mi scuso ancora e vi lascio con il nuovo video no 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 Grazie a tutti. 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 e 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 a tutti.